Aurora! Che cosa vuoi? Dovete smetterla di giudicare Tessa, tutti quanti, anche te. E tu devi smetterla di darmi gli ordini. Senti, se devi prendertela con qualcuno, prenditela con me. Tanto è con me che ce l'hai, no? Sì, sì, è con te che ce l'ho. Io torno e ti trovo con Tessa. Tessa! Io sono furiosa, sono furiosa! L'hai detto che si è incazzata? Beh, allora usalo questa rabbia perché mi serve. A cosa? A dirti quello che provo io contro di te. Tu provi qualcosa contro di me? Tu contro di me? E con quale diritto? Quella notte quando ci hanno sparato, per te è come se fosse ieri. Per me sono stati due anni d'inferno. Due anni a domandarmi perché. Ma perché cosa? Perché quella notte te ne sei andata dalla casa sul lago? Avevamo tutto. Eravamo io, te e Eva. Eravamo al sicuro, no? Tu volevi la verità. Era più importante di tua figlia la verità. Era più importante di me la verità. Era più importante di te. Niente. Niente più importante di te. Niente più importante di te. Grazie a tutti